Si è tenuta sabato 27 agosto e domenica 28 a Farnese presso Viterbo la quarta edizione della Sagra della Pastorizia che al di là degli aspetti folcloristici ed enogastronomici anche quest'anno ha affrontato i problemi connessi alla pastorizia ed all'allevamento degli ovini. Nel convegno d'apertura intitolato Le difficoltà della produzione ovina in un mercato atipico si è parlato dell'allevamento degli ovini nel Lazio e dei problemi che lo affliggono. Sono intervenuti l'assessore alle politiche agricole della regione Lazio Angela Birindelli e il presidente della commissione agricoltura della regione Francesco Battistoni a cui gli allevatori hanno potuto indirizzare le loro giustificate richieste. Assessore Birindelli, lei crede nelle sagre enogastronomiche? Sì, credo molto in questo tipo di attività che è molto legata alle tradizioni dei territori. La Sagra della Pastorizia ad esempio di Farnese è importantissima perché tra l'altro ha una doppia valenza. Da un lato serve per ascoltare le voci degli attori principali della filiera dell'Ovi Caprino sul territorio ma dall'altro lato serve anche a far conoscere a livello regionale, direi anche nazionale, quelle che sono poi le tipicità, le caratteristiche, le bellezze sia culturali che artistiche ma anche enogastronomiche dei nostri territori. Quindi ha una valenza anche turistica perché io credo molto nel legame dell'agricoltura con il turismo soprattutto per quello che sono i nostri borghi rurali delle nostre bellissime province. Il turista che viene a Roma noi lo dobbiamo attrarre oltre a fargli visitare le bellezze di Roma sulle province a vedere i nostri bellissimi borghi rurali che oltre ai centri storici hanno queste tradizioni legate ai sapori dei nostri prodotti tipici. Quindi le sagre come questo servono appunto anche a far conoscere quella che è la valenza territoriale. L'Alta Tuscia in particolare si evidenzia per questo tipo di manifestazioni legate anche alla bontà dei prodotti che riesce a produrre. Può essere un volano per lo sviluppo del turismo in questo territorio? Lo è sicuramente. Io credo anche molto nella capacità dell'agricoltore di mettere accanto al reddito prettamente agricolo quello che è un reddito alternativo. Quindi credo nella multifunzionalità dell'agricoltura. E multifunzionalità significa anche ipovie, ipoterapie, turismo equestre, agroturismo. Quindi tutta una serie di attività collaterali che aiutano l'agricoltore e ne sostengono il reddito. E d'altro canto fanno conoscere il nostro territorio a tutti quelli che sono poi i possibili turisti nazionali e internazionali. Il nostro territorio ha la fortuna di avere una tradizione enogastronomica molto importante. E credo che sfruttando anche questa occasione sicuramente il percorso di valorizzazione turistica e enogastronomica può dare una forte mano all'economia dei nostri allevatori. Siamo qui alla festa della pastorizia e credo che studiare anche nella nostra provincia, nella nostra regione, percorsi che riguardano soprattutto questi prodotti particolari, prodotti che anche se sono in icchia hanno un valore commerciale molto elevato, credo che sicuramente potranno essere di forte aiuto all'economia agricola della nostra provincia e della nostra regione. Bisogna intervenire prima che sia tardi, sostiene l'Associazione Agropastorizia Farnesiana Sarda. Come è noto, infatti, è ormai da oltre mezzo secolo che le popolazioni pastorizie della Sardegna hanno trovato nella Tuscia un loro habitat naturale. Sono stati i membri dell'Associazione a trovare la collaborazione che ha reso possibile la realizzazione della rassegna. Hanno aderito, infatti, a questa quarta edizione la regione, la provincia ed il comune di Farnese. Allora, niente, si è festeggiata, si è iniziata a festeggiare, diciamo, la quarta sagra della Vastorizia. Siamo molto contenti di questo evento, anche perché gli altri anni ci hanno dato a ben sperare. E effettivamente poi le presenze lo dimostrano. Abbiamo già avuto nei primi due giorni di sagra circa 2.000-2.500 persone. E per oggi è previsto il clou della manifestazione. Inoltre, questa mattina si è svolto e appena terminato un convegno nazionale proprio sui problemi legati al mondo della pastorizia, a cui ha presenziato l'assessore alle politiche regionali Angela Birindelli, il presidente della Commissione Agricoltura della Regione Lazio e tutte le varie associazioni di categoria. La riserva naturale, Selva dell'Amone, l'Arsial e la Confesercenti di Viterbo hanno dato il loro patrocinio. Un primo bilancio a caldo sul convegno che si è appena concluso nell'ambito della quinta festa della pastorizia che si svolge a Farnese, per significare l'importanza ormai rispetto alla canalizzazione dei flussi anche turistici sul territorio, cioè parlando di turisti, soprattutto turismo tematico. I turisti si muovono per motivazione, non c'è più la destinazione e quindi le tradizioni, la cultura, i sapori, i saperi, la cultura del mangiare, del bere, assumono aspetti rilevanti per quanto riguarda appunto il successo di un territorio. La rassegna si è svolta nel centro di Farnese, sovrastato dalla Rocca. Accanto a Palazzo Chigi, alla chiesa parrocchiale che custodisce preziosi dipinti di Orazio Gentileschi, nelle vie del centro storico, i partecipanti hanno promosso le produzioni tipiche locali, quali le carne ovine, i formaggi, l'olio di oliva biologico e il miele. Nella cornice dell'antico borgo si sono avvicendati spettacoli musicali, folcloristici e questri. Si sono potuti vedere all'opera i celebri butteri maremmani. Gli intervenuti, convenuti a Farnese dalla provincia, da Roma ed anche dalla Sardegna, hanno potuto partecipare ad una visita guidata nella riserva naturale della selva del Lamone.